Col Diretti Puglia ha elaborato un'analisi sull'andamento del settore olivicolo e oleario in Puglia, secondo la quale è emerso che nel territorio regionale negli ultimi dieci anni è cresciuta la produzione media di olio del 21%. Pare che proprio il settore oleario sia quello che ha resistito meglio all'emergenza sanitaria. Sentiamo tutti i dettagli nel servizio. Negli ultimi dieci anni in Puglia è cresciuta la produzione media di olio del 21%. La regione produce oltre il 50% dell'extravergine italiano, a cui non ha corrisposto una visione strategica, a differenza di quanto è venuto in Spagna, rispetto alla realizzazione dei magazzini di ammasso e stoccaggio dell'olio e ad una promozione coordinata della filiera dal campo alla tavola. È quanto emerso dall'analisi di Coldiretti Puglia sull'andamento del settore olivicolo e oleario regionale, in occasione del Via Libera alla ristrutturazione del settore di riferimento, con il provvedimento del Ministero delle Politiche Agricole, che destina 5 milioni di euro per gli interessi maturati nel 2019, dalle aziende olivicole sui mutui bancari contratti entro il 31 dicembre del 2018. Resta l'urgenza di costruire finalmente il piano olivicolo nazionale quando in Spagna ne hanno già fatti 5 e di rivedere, spiega il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia, i rapporti all'interno della filiera, coinvolgendo in prima istanza proprio la grande distribuzione, perché il prezzo allo scaffale di olio extravergine di oliva a 3 euro a bottiglia è inaccettabile. Pare che il settore oleario sia quello che ha resistito meglio all'emergenza sanitaria, con un lieve calo dello 0,5% delle esportazioni di olio extravergine pugliese all'estero nei primi nove mesi del 2020, quando la domanda estera di olio imbottigliato è arrivata soprattutto dagli USA, più 28%, e dalla Francia, più 42%. L'Italia è il primo consumatore mondiale di olio d'oliva, con una media negli ultimi 5 anni di 504 milioni di chili, seguita dalla Spagna con 483 milioni di chili e dagli Stati Uniti con ben 320 milioni di chili. A sostenere la domanda mondiale sono certamente gli effetti positivi sulla salute associati al consumo di olio d'oliva, provati da numerosi studi scientifici che hanno fatto impennare le richieste di quel segmento di popolazione che nel mondo è attento alla qualità della propria alimentazione. Per questo serve intensificare l'attività di controllo e vigilanza, sostiene Coldiretti, anche per evitare che vengano spacciati come nazionali prodotti importati, ma è anche necessario al più presto il recepimento della direttiva UE in materia di pratiche commerciali sleali del 17 aprile 2019 per ristabilire condizioni contrattuali più eque lungo la catena di distribuzione degli alimenti, con l'introduzione di elementi contrattuali e sanzionatori certi rispetto a prassi che finora hanno pesantemente penalizzato i produttori.